Un modo di governare l'anno, realo, contico, daveto, l'anno, poi... E poi ho in mente, per i giovani, 5 anni di prigione, per gli elettori, 2 milioni di anni di prigione. Il primo disegno di legge, lo conoscete, abolizione della libertà dei cittadini. Il secondo riguarderà la difesa del terrorismo, la mafia, la camorra. E' uno Stato, se non difende il terrorismo, 5 anni di prigione.